In occasione delle celebrazioni in onore del Santo Patrono San Michele Arcangelo, la Polizia di Stato ha organizzato un concerto dal titolo I valori che ci uniscono, esserci sempre. Si è svolto nel Tempio di Venere al Foro Romano, una banda della Polizia si è esibita davanti al Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, al Capo della Polizia. Al concerto presentato da Serena Rossi hanno partecipato anche Andrea Brucelli, conferito il titolo di poliziotto ad onore a Don Antonio Colucci, impegnato contro il traffico di stupefacenti, al cantautore mogol, al giovane atleta paralimpico Valerio Catoia che ha salvato la vita di una bimba che stava negando gettandosi in mare.